Estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito della ricostruzione post-terremoto dell'Aquila. Sono i reati di cui devono rispondere 9 imprenditori, di cui 4 finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Caronte, condotta dai carabinieri del reparto operativo del capoluogo abruzzese e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila. A finire per prime nel mirino degli investigatori sono state due ditte operanti nella provincia di Caserta, una delle quali tuttavia ha già da qualche tempo trasferito la propria sede in provincia dell'Aquila, contigue ad alcuni esponenti dei casalesi. Secondo la ricostruzione effettuata nell'indagine coordinata dai PM David Mancini e Roberta Davoglio, i dipendenti venivano costretti ad accettare costanti violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale e alle ferie, nonché violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Per aggirare la normativa sul tracciamento dei flussi di denaro ai dipendenti era stato imposto di attivare carte di credito o debito prepagate, che rimanevano nella esclusiva disponibilità del datore di lavoro unitamente ai relativi codici PIN. Ai titolari delle ditte viene contestata per il periodo dal 2013 al 2016 anche l'emissione di fatture per diverse centinaia di migliaia di euro relative ad operazioni inesistenti in relazione al fittizio noleggio di mezzi e attrezzature, nonché all'effettuazione dei lavori. Per due delle ditte coinvolte è scattata inoltre la misura interdittiva antimafia adottata dalla prefettura dell'Aquila alcuni mesi fa in sede di accertamenti istruttori espletati per le iscrizioni nelle cosiddette white list della ricostruzione post-terremoto, proprio in virtù dei collegamenti con personaggi legati alla criminalità organizzata dell'area casalese.